Bel Sito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari, www.belsitoteldueturri.it Dopo la seconda puntata di Operazione Trasparenza del Movimento 5 Stelle, che nel corso di un incontro con il deputato Carlo Sibilia e la Stampa ha trattato il tema degli sprechi in riferimento al centro per l'autismo, all'impianto SIR e ai conti dell'alto calore, i vertici dell'azienda, gestore del servizio idrico in provincia, rispondono a sondi comunicato. Questo lunedì Carlo Sibilia, si legge nella nota, confusamente, non ha fatto che riesumare vecchie accuse, peraltro frutto di lettere anonime a lui indirizzate già note e smentite ampiamente dai fatti, ponendo in essere un evidente e ingiustificato accanimento contro i vertici di questa società. Insomma, ci troviamo al cospetto dell'ennesimo e goffo tentativo di gettare fango su questa azienda. Ovviamente, si legge nella nota, il deputato Sibilia risponderà ancora una volta in sede civile penale delle sue azioni per il grave danno d'immagine arrecato all'alto calore servizi S.P.A. e sui vertici, che in queste ore sono impegnati a risolvere definitivamente l'emergenza idrica invernale provocata dal maltempo. Infine, ricordiamo all'opinione pubblica che Carlo Sibilia elude da più di dieci giorni la nostra legittima richiesta a fronte delle sue offensive accuse di rinunciare all'immunità parlamentare e a non sfuggire al confronto pubblico con il presidente De Stefano sul merito delle contestazioni mosse e sulla gestione complessiva dell'alto calore sempre improntata al massimo della moralità.